E così siamo arrivati quasi alla fine della mia avventura con Creepy Mahjong Finalmente Steam ha approvato il mio build La mia versione che ho mandato su con tutte le modifiche che mi avevano suggerito di fare Sempre sia stata accettata Quindi non mi resta che premere il pulsante per pubblicare Quando sarà chiaramente il giorno della pubblicazione che è il 26 ottobre Quindi posso dire tra virgolette questa mia esperienza di pubblicazione di un gioco completo Dall'inizio fino alla fine, chiaramente portato su Steam Di essere arrivato alla fine Certo ci saranno sempre delle cose da fare, ci saranno da rispondere ai feedback Ci saranno dei bug che io e i miei test non hanno trovato E quindi qualche giocatore mi dirà qualche cosa sicuramente Però diciamo il grosso è stato fatto Finalmente posso dire di aver messo sotto la mia cintura Diciamo un altro progetto che finalmente è completato E è un progetto che è mio, non è stato fatto per un cliente Quindi diciamo è una buona soddisfazione Chiaro che non è un progetto che so già che non mi porterà un sacco di soldi Perché lo scopo non è stato mai ideato come un progetto per farci tanti soldi Però chiaramente l'esperienza che ho maturato in questi tre anni Diciamo da quando ho iniziato a lavorare a scappotempo fino adesso E' stata moltissima e sicuramente mi tornerà utile per il prossimo gioco Per i prossimi giochi, si spera che riuscirò a fare E anche per la pubblicazione su Steam che è abbastanza complessa Anche per fare queste modifiche Purtroppo su Construct non c'è un grandissimo supporto di plug-in E altre cose che per integrare tutte le cose di Steam Quindi diciamo non è stato semplicissimo anche trovare informazioni C'erano informazioni abbastanza obsolete su internet Quindi mi sono un po' dovuto arrangiare un po' Nonostante che abbia avuto tutti i problemi di cui ho parlato le settimane scorse Comunque sono riuscito a concludere questo gioco Quindi per quel che riguarda Krippi Mahjong siamo a posto Poi vi farò sapere chiaramente nelle settimane più avanti come sta andando la cosa Sarà di fuori di questo primo anno che sto facendo il resoconto Però comunque sia vi faccio sapere come vanno le cose Niente, poi ci vediamo la prossima settimana per un discorso generico Così non relativo a nessun programma particolare che ho creato Dovrò fare una conclusione con qualche consiglio su quelle sono le cose che potete aspettarvi E su come secondo me potreste muovervi per cercare di sopravvivere In questa situazione che è abbastanza difficile Specialmente con l'andamento delle cose di questi ultimi due anni Quindi colgo l'occasione io chiaramente per ringraziare Tutti quelli che mi hanno aiutato, supportato in questo anno Anche voi che state vedendo questo video chiaramente Perché chiaramente senza di voi non avrei avuto quello stimolo che ho avuto Di andare avanti e fare le registrazioni di questi video e così via Quindi per me è stata una buona cosa E soprattutto mi ha aiutato anche a terminare questo gioco Perché mi sono sentito in dovere di mantenere la parola E di dire ok, devo finire questo qui per forza Prima di questo anno, almeno per quest'anno E quindi niente, vi ringrazio ancora una volta Ringrazio come sempre chi mi supporta su Patreon Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato con i feedback del gioco Sia online e sia fisicamente Questo è un merito anche vostro chiaramente questa cosa qui E quindi insomma mi sento di ringraziare E niente, poi ci vediamo la prossima settimana Con il video conclusivo di questa serie Ma sicuramente ci saranno altri video con cui potremo interagire Chiaramente può anche tenerci in contatto sui vari social media O comunque dove solitamente mi trovare Ciao alla prossima e grazie ancora